Attraverso una gara d'appalto telematica, il prossimo 16 giugno l'Urega di Agrigento procederà all'affidamento dei lavori di riqualificazione della piazzetta di Borgo Bonsignore. A darne notizia oggi il sindaco di Ribera, Carmelo Pace. L'importo dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza è di circa 2 milioni di euro. Il decreto definitivo di finanziamento delle opere risale al dicembre scorso e rientra nell'ambito dei 14 milioni di euro stanziati dal governo regionale per la valorizzazione e riqualificazione di alcuni borghi rurali in Sicilia, tra cui per l'appunto Borgo Bonsignore. L'intervento prevede la totale ristrutturazione della piazzetta con il rifacimento di tutti i prospetti, la pavimentazione originaria dell'epoca e la pubblica illuminazione dei primi anni del Novecento. Si va a riqualificare una località, tra l'altro, più volte scelta in questi anni per una delle serate conviviali del Google Camp. Questo intervento, commenta soddisfatto il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, ha una valenza storica, culturale e turistica. Ne trarranno benefici non soltanto i residenti della borgata, ma anche i cittadini e le attività turistico-ricettive di un intero comprensorio. Oltre alla riqualificazione della piazzetta e della illuminazione, sono previsti lavori per il rifacimento di tutti i prospetti con la sostituzione anche degli infissi esterni di tutti gli edifici prospicenti la piazzetta. Un progetto che, a giudizio dell'amministrazione comunale di Ribera, può realmente segnare il rilancio economico del territorio. Se Borgo Bonsignore è tra i pochissimi borghi siciliani a beneficiare di tale intervento, ricorda Carmelo Pace, tutto ciò è stato possibile grazie alla felice intuizione e alla volontà politica del presidente musumeci e della sua giunta. Ma determinante è stata anche l'azione messa in campo dal soprintendente ai beni culturali di Agrigento, Michele Benfari, che insieme al suo staff ha esitato velocemente tutti gli atti propedeutici, compresa la progettazione esecutiva, e che in così poco tempo hanno consentito di procedere allo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori. Borgo Bonsignore potrebbe presto diventare un polo di attrazione straordinario, un luogo suggestivo con attività commerciali, piccole botteghe e laboratori gastronomici che caratterizzano la sicilianità. Il Borgo, prosegue Carmelo Pace, può realmente rappresentare ciò che rappresenta Marzamemi per la città di Pachino e per tutta la Sicilia orientale. Adesso, conclude il sindaco, tocca a noi riberesi sfruttare al massimo l'iniziativa che il presidente musumeci ha voluto donarci, che può e deve rappresentare non una semplice riqualificazione di una piazzetta, ma una vera occasione di rilancio culturale ed economico.